Sì, è fine questa parte Sì, è vero Sì 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Vai, 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 sto aspettando pure io, vai, 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 sto aspettando, sto aspettando pure io, ragazzi, sono qui, vai, sto aspettando pure io, vai, sto aspettando, grazie a tutti. che non è proprio lo stesso non è proprio quello che devo appicciare ma non è proprio quello che devo appicciare non c'è il gioco ma ciò che devo appicciare ma non c'è un po' da qua non c'è un po' da qua non c'è un po' di più ma non è un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti.